Questa è un'altra bella iniziativa della Fondazione che va nella direzione di promuovere la sensibilità ambientale soprattutto nei confronti delle giovani generazioni. Già la Fondazione è impegnata in questo settore, una parte dei nostri fondi sono sempre destinati all'ambiente e questo invece è un bel progetto che anche su stimolo da parte nostra l'Argonauta ha predisposto coinvolgendo un po' tutte le scuole del territorio di riferimento della Fondazione per far visitare nei luoghi della Fondazione e anche negli altri luoghi importanti dal punto di vista ambientale gli studenti di ogni ordine grado. Quindi questa iniziativa che è appunto nel settore dell'ambiente vedrà tanti, tantissimi giovani che svolgono con la loro attività di studenti nel territorio di riferimento della Fondazione avere un'attività didattica privilegiata sull'ambiente, frequentare e svolgere direttamente questa attività nei luoghi della Fondazione, a Lago Vicini, ma anche in altri luoghi caratterizzanti di questo settore come Casa Archileia, Fosso Segliore. Questa iniziativa è una delle tante nell'ambito del settore ambientale che la Fondazione promuove. Anche domani c'è la terza delle conferenze che la Fondazione ha organizzato dal titolo Terra e Clima dove verranno portate le evidenze dei dati sul clima della nostra regione Marche. Quindi non si parla soltanto di temi di alto profilo ma cerchiamo di trovare anche il modo di coniugarli, di metterli a terra per comprendere nel nostro territorio come stanno andando le cose. Abbiamo già in programma una serie di altre conferenze per i prossimi mesi sempre sul tema ambientale.